Emergenza Provincia, Pescara si riuniscono i presidenti di Teramo, Pescara e Chieti per chiedere al governo una manovra capace di dotare di strumenti finanziari gli amministratori. La legge del Rio non ha funzionato ed oggi i tagli praticati si traducono in rischio per i cittadini che si trovano a strade dissestate e istituti scolastici che versano in pessime condizioni. L'indignazione dei pubblici amministratori si traduce in vera e propria preoccupazione. Intanto lo sblocco dei fondi stanziati, per esempio i 20 milioni di euro che servivano e servono per sopperire ai costi che stiamo sostenendo dal 1 gennaio 2015 per il personale che sarebbe dovuto passare alle regioni e ancora non sono passate del tutto alle regioni. Oppure c'è un fondo di 100 milioni di euro da valere sull'ANAS per quanto riguarda la viabilità. Se qualcuno si fa male su una strada la responsabilità diretta è dei dirigenti. Ora come fanno i dirigenti a curare le strade ammalorate, a mettere in sicurezza se lo Stato non ci trasferisce quei fondi che sono fondamentali per poter ovviamente mitigare alcune situazioni che sono veramente compromesse. I tagli arrivati al governo insostenibili perché non ci permettono di garantire i servizi essenziali e i servizi minimi ai nostri cittadini. Quindi oggi province che hanno difficoltà a chiudere il bilancio. L'appello ai parlamentari perché è una richiesta d'aiuto, le responsabilità ci sono ma non ci sono gli strumenti per poter garantire la sicurezza per le province. Siamo in una fase di riorganizzazione dell'assetto istituzionale del Paese anche alla vigilia del referendum costituzionale. Vi assicuro però che c'è grande sensibilità, grande consapevolezza sia da parte del governo che da parte del Parlamento, di ogni colore politico, di quanto questo strumento intermedio del potere popolare sia importante per la tutela dei territori.